bai bai ma s... ecco bai bai ma s, sei uno stronzo ehi... che cazzo hello ah... sì... tu sei uno stream sniper ma! Nessuno mi sniper ha bevi questo E quindi che cosa devo fare? Se mi stai ascoltando dalla live Fai i su e giù così Ti è stronza Vabbè almeno però So che mi stai ascoltando Anzi scusa che ti ho sparato Ovviamente non potevo saperlo Però Mi perdoni vero? Ok Prendi la roba e andiamo a giocare Andiamo No poverino non potrei mai spararmi Mi dispiace un botto Ma ha fatto male Ah ma Vuoi morire? No Non vuoi morire? Non ti devo giustiziare Ma come vuoi morire? Ma come vuoi morire? Ma... Are you sure? Ragazzi cominciate a clippare Lo mette il Titanic Aspetta aspetta Lo mette il Titanic Lo mette il Titanic Lo cazzo sta Cominciate a clippare, aspetta No, ho bruciato la zia Ovviamente dimmi come ti chiami in chat Ok Buona vigilia comunque Attanto a te Aaaaah Aaaaah